Amici di Eventi Press, salve, ben ritrovati sulla nostra pagina. Oggi siamo venuti a trovare Giuseppe Princiotto, presidente della Sanecop, un'azienda nata per aiutare gli altri, possiamo dire così? Sì, più che un'azienda è una cooperativa che è nata dieci anni fa da un gruppo di ragazzi autisti soccorritori che facevano parte di diverse associazioni. Dove ci siamo aggregati e abbiamo fondato questa cooperativa. Quindi effettivamente è una cooperativa dove c'è un presidente, un vicepresidente, un consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci. Quindi nella pratica siamo dei ragazzi che attraverso l'aggregazione, quindi all'interno della cooperativa, ci muoviamo sul territorio per creare occupazione, in prima battuta. E contestualmente ci occupiamo anche dello sviluppo di una serie di servizi in ambito sociosanitario che riguardano in primis il trasporto sanitario, ma andiamo comunque dalla formazione a tutta una serie di attività sociali anche in partnership con istituzioni pubbliche e private. La Sanecop fa parte del gruppo Villa Pacis, che tutti conosciamo, che è presente sul territorio dei Nebrodi con diverse strutture socioassistenziali che si occupa di riabilitazione. Quindi la Sanecop all'interno di questo circuito si occupa, in sintesi, tutto quello che riguarda la logistica, la mobilità dei pazienti, sia all'interno delle strutture del gruppo Villa Pacis, sia all'esterno, per quello che riguarda chiunque abbia bisogno di mobilità. Ho detto che in questi dieci anni siete stati al fianco delle persone che hanno avuto più bisogno, soprattutto delle fasce più deboli. Non solo, in questi dieci anni so che vi siete occupati non solo di questo servizio, ma anche di informazione e formazione del personale. Sì, uno degli elementi che forse hanno segnato la differenza in questi dieci anni di attività sul territorio è stata proprio la formazione e anche l'informazione, perché ne abbiamo fatta molta in diverse scuole del territorio. Per quanto riguarda la formazione, è partita più come un hobby, nel senso di qualcosa per crescere noi in primis dal punto di vista professionale, ma dopo si è stessa, è diventato un progetto anche quello che ha preso il suo percorso sul territorio. Pensate che noi ogni anno formiamo sulla fascia tirrenica dei Nebrodi tra i 100 e i 200 soccorritori, che poi sono degli soggetti che prevalentemente andranno ad operare anche in altre associazioni che sono presenti lungo la fascia tirrenica. La vostra cooperativa in questi dieci anni ha fatto grandi numeri, più di mille trasporti in ambulanza ogni anno, più di mille trasporti nell'automedica, oltre 500 mila chilometri percorsi, quindi insomma una cooperativa che davvero fa grandi numeri. Sì, devo dire che una cosa che ci rende orgoglio, diciamo un po' a tutti, è questo che sono stati dieci anni comunque sempre di crescita e ciò significa che comunque il territorio ha acquisito effettivamente la professionalità di quello che andiamo a fare. I numeri, noi io penso che meglio dei numeri nulla possa esprimere la realtà di ciò che si va a fare in qualsiasi entità. Quindi noi amiamo molto a fine anno fare dei piccoli report come quando vai a scuola, diciamo finisce l'anno scolastico e diamo i voti su quello che abbiamo fatto. Io dico sempre che la cooperativa Sanecop ormai è giunta al decimo anno al punto che è come se spostasse un piccolo paese all'interno dei Nebrodi, ma più che porla in questi termini, io direi che la cooperativa Sanecop sta lavorando, e ha lavorato e sta lavorando per abbattere quello che è il muro del disagio geografico perché noi consentiamo a tante famiglie e a tanti pazienti di potersi muovere leggevolmente e raggiungere i principali nosocomi che sono Patti e Santa Cata di Militello. Quindi la vedo più questa cooperativa come un'opportunità per abbattere delle barriere che sono di tipo geografico. In questo anno e mezzo di Covid, come vi siete mossi e che difficoltà avete incontrato, come le avete affrontate? Sì, quest'anno come tutti ci siamo trovati spiazzati perché anche all'interno del nostro settore abbiamo trovato qualcosa di nuovo che in realtà comunque di nuovo non è perché bisogna essere preparati. Il rischio biologico è uno dei principali rischi che si trovano nel mondo sociosanitario, quindi di base c'è stata comunque la formazione che ci ha aiutato e le difficoltà più che altro sono state di reperire il DPI, che è stata una difficoltà da parte di tutti generalizzata. L'abbiamo affrontato, adesso si usa, si abusa del termine resilienza, ma è così, abbiamo abbassato la testa, abbiamo cercato di analizzare il contesto nuovo che ci siamo trovati di fronte, dopodiché abbiamo cercato di innovarci, di rivedere un attimino tutti i vari processi di erogazione dei servizi e abbiamo cercato di dare la nostra parte, il nostro aiuto alle istituzioni pubbliche, tant'è che ci siamo impegnati, abbiamo dato la nostra disponibilità all'Aspito di Messina per quello che riguardava il supporto nell'assistenza sia per i tamponi che per i vaccini. Quindi è stato un anno dove il nostro impegno è stato profuso, principalmente accanto dell'azienda sanitaria provinciale e anche del territorio. Proprio oggi infatti lei è di ritorno da un punto vaccinale? Sì, oggi c'è stata una giornata molto importante a San Marco d'Alunzio dove è stato eseguito un open day insieme con l'Aspito di Messina e noi abbiamo dato supporto con i nostri soccorritori, con i nostri mezzi ed è stata una giornata, un tassello insieme al grande puzzle di questa campagna vaccinale dove noi stiamo cercando di dare il nostro supporto, nel nostro piccolo. Dico, ma noi ci siamo, siamo sempre presenti. Dopo dieci anni, quali sono i progetti per i prossimi anni? Allora, gli obiettivi che abbiamo inserito fra l'altro nel nostro bilancio sociale, nell'ultimo sono principalmente due e faccio un passo indietro. Noi in questo anno, quando tutto magari sembrava un po' più buio, abbiamo investito molto in quello che riguarda la digitalizzazione, in quello che riguarda la formazione, in quello che riguarda anche gli investimenti in nuove risorse tecniche e umane. E quindi abbiamo fatto ricerca e innovazione quando, diciamo, un po' le cose andavano male. Ma questo ci ha aiutato a dare un nuovo impulso, perché i prossimi obiettivi che ci siamo posti nascono appunto da questo recente 2020. Quali sono i prossimi due obiettivi? Sono rendere il nostro ente, il primo ente in Sicilia che è assolutamente digitalizzato nel campo della mobilità sanitaria e arrivare a sostituire tutto l'autoparco, quindi da attrazione fossile e elettrica. Noi già nel 2017 siamo stati il primo ente in Sicilia che ha effettuato trasporti di pazienti su veicoli elettrici. L'anno successivo abbiamo acquisito un'altra macchina elettrica, quindi il nostro percorso è iniziato verso la politica green, molto prima delle attuali nuove normative che sono uscite. e quindi questi sono i nostri due principali obiettivi. Ormai ci siamo posti green e digitalizzazione, che poi sono due temi che nel piccolo fanno parte dei grandi temi delle politiche sia internazionali che nazionali. Quindi sempre sulla scia della formazione e del rispetto dell'ambiente? Assolutamente, fra l'altro per quanto riguarda la formazione abbiamo attivato un nuovo percorso formativo dove se ci sono dei ragazzi che sono interessati possono partecipare a dei percorsi di formazione dove gli consentiamo di poter salire a bordo delle ambulanze che fanno eccedenza 118 e quindi... Questo mi sembra anche molto importante per creare posti di lavoro. Sì, noi con la formazione creiamo le condizioni per avere dei soggetti formati che poi potranno andare, eventualmente potranno avere degli sbocchi in quello che riguarda il campo del soccorso. Formazione, selezione e possibilità di occupazione. Perché non si improvvisa nulla, soprattutto nel campo del soccorso? Assolutamente, noi non portiamo pacchi, quando dico noi parlo per tutto il settore del trasporto sanitario, non portiamo pacchi ma portiamo delle vite umane e quindi c'è una serie di cose che vanno rispettate fra cui la formazione, la professionalità, la privacy e anche la verifica e il pieno controllo dei processi di erogazione dei servizi. Io dico sempre che presiedere o amministrare un ente senza scopo di lucro non è esula dal fatto che non vi sia una buona amministrazione di tipo aziendale, anzi bisogna avere maggiore oculatezza secondo me nel gestire e nel presiedere un ente che non abbia scopo di lucro rispetto a un ente che ha scopo di lucro. A proposito del fatto che mi diceva noi trasportiamo vite umane, io so che lo slogan della vostra cooperativa è il paziente al centro dell'universo. Sì, è lo slogan, intanto lo slogan del gruppo Villa Bacis è anche lo slogan della nostra cooperativa proprio perché la nostra attenzione è solo ed esclusivamente verso il paziente, in seconda battuta tutto quello che ruota attorno al paziente e tant'è vero che noi non ci tiriamo indietro se ci dobbiamo togliere la giacca e mettere la divisa non ci pensiamo due minuti. Ci piace chiudere in questa maniera per far comprendere quanto questo non sia solo un lavoro ma è proprio una missione nei confronti del prossimo. Assolutamente, non è mai stato un lavoro, è nata come una passione che si è sviluppata è cresciuta, è diventata qualcosa di concreto, è diventata un'entità e quindi viene gestita in maniera, ripeto, con le dinamiche di un'azienda ma è comunque una passione che è nata e che speriamo di riuscire anche a trasmettere non solo ai nostri pazienti ma soprattutto ai giovani magari invogliare, diciamo, a intraprendere questa strada che magari a sua volta, scusando il gioco di parole, li potrà portare verso altre strade.